Ciao a tutti, cari amici e amici di salute dello scorpione, eccoci qui in mia compagnia. Siamo pronti per conoscere le vostre previsioni oroscopo dal 17 al 23 ottobre 2022. Grazie di cuore per seguirmi sempre, vi ricordo se vi va di iscrivervi al canale attivando le notifiche attraverso la campanella in alto a destra. Vi ricordo che queste energie generali quindi non possono valere per tutti. Vi lascio stimolare con un commento e un feedback, sono lieto di rispondervi. Benissimo, incominciamo con captare le vostre energie attraverso l'asilo di due carte del mio mazzo oracolare. Vediamo per voi dello scorpione, che cosa e come dovete affrontare questa settimana. Abbiamo la carta dei cognizionamenti eccessivi, vicino alla carta cercare consigli e aiuti. Qui, alcune persone o anche una persona potrebbe condizionare in maniera eccessiva, ok, le vostre scelte. In alcuni casi è l'altra persona che vorrebbe decidere al posto vostro, ok? E voi potreste cercare un consiglio, un aiuto, visto che magari alcuni di voi stanno passando o passeranno dei momenti delicati della propria vita in uno o più sfere. Quindi vorranno cercare in qualche modo un consiglio, un aiuto da parte di questa persona, di questo gruppo di persone, ma che in realtà, diciamo, non me la racconta giusta. Vorrebbe proprio condizionarvi in maniera molto morbosa. E potrebbe anche farvi prendere delle decisioni che non sono giuste. Solo perché vuole fare questa persona i propri interessi, ma fondamentalmente non gliene frega niente di voi. Quindi attenzione anche dove cercherete i consigli e su chi vorrete appoggiarvi per cercare anche un aiuto. Che può essere un aiuto anche in termini monetari. Attenzione, attenzione magari anche a chi presterete i soldi, perché poi magari non vi ritorneranno indietro, ok? Quindi questo è il primo messaggio per voi. Ma andiamo avanti con l'asilo di altre tre carte. Vediamo un attimino cosa voglio dirvi i messaggi per voi dello scorpione. Allora, abbiamo la carta dell'Homeless. Poi del good news. E poi vediamo la carta di exit. Ma qua, allora, se state vivendo un periodo di fallimento, di disoccupazione, di povertà, ok? Anche di tristezza. Qua potreste invece ricevere delle comunicazioni importanti che daranno una svolta in positivo alla vostra vita. Quindi potreste ricevere un prestito, potreste ricevere delle notizie importanti dal punto di vista anche economico, professionale. Delle buone notizie e le vedrete come proprio una sorta di miracolo che, diciamo, vi faranno portare uno sviluppo in positivo della vostra situazione o di un rapporto. Però mi raccomando, aprite sempre bene gli occhi su quello che andrete a firmare, su eventuali clausole, su documenti, su contratti. Quindi prima di apporre la firma, date sempre un occhio in più a quel documento, a quel contratto, ok? E questa è un'altra carta. Vedete? Non so se la percepite. Qua sono carte, queste di exit, molto interpretative. Qui potrebbe esserci una persona che vi darà comunque un supporto, vi darà una mano. Però attenzione perché non sempre le persone hanno delle buone intenzioni. Quindi mi raccomando, capite bene anche chi vuole offrirvi il supporto, chi vuole offrirvi il proprio aiuto. E queste potreste essere proprio voi che state aspettando quella, diciamo, spintarella, ok? Passatemi il termine. Comunque quel aiuto che proviene da fonti esterne. State aspettando comunque la vostra rivincita, ok? Quindi una fase delicata della vostra vita, una fase in cui avete vissuto delle sconfitte, avete dovuto affrontare delle prove molto importanti. Questa fase che, diciamo, andrà scemando per ricevere ottime notizie, nuove notizie su più fronti, che saranno comunque notizie confortanti per voi. Andiamo avanti con un'altra carta. Dal mio oracolo dei pensieri, oracolo della vita. Vediamo cosa vuole dirvi. Qua potreste essere incoraggiati, da parte di altre persone, a fare sempre del vostro meglio, ok? Potrebbe essere anche una notizia via telefono, non so, via whatsapp, via mail, ok? O anche proprio tramite contatto diretto, che porterà solo cose belle, ok? E quindi incomincerete a ritrovare il sorriso. Vediamo quindi un'altra carta per voi dello scorpione. Fai un passo indietro se quello che vivi ti fa star male. Quindi molto importante questa carta, questa frase. Se vi accorgete, se durante questa settimana vi accorgete che c'è un qualcosa che vi sta facendo male, da puntista proprio emotivo, cercate di fare un passo indietro, di essere maggiormente obiettivi nel confronto di quella situazione, di quel rapporto. Capite come stanno realmente le cose. E solo dopo aver fatto questo passo indietro, aver riflettuto, puoi ricominciare un'altra volta a camminare e a compiere e andare avanti verso la vostra strada, verso quel percorso. Però è importante e doveroso riflettere. E se quella cosa vi fa star male, dovete cercare di, in qualche modo, togliervela comunque dai piedi. Perché può provocarvi solo noie. Può essere solamente ostacolante per voi e per la vostra crescita. E mi sto riferendo soprattutto a questi cognizionamenti eccessivi. Ok? Benissimo cari amici. E vi aspetto sempre qui sul Tarumè. Ciao a tutti e alla prossima!